E allora si può, e allora si può, e allora si può vedere anche una Roma che gioca bene, che diverte, che si diverte e che vince, vince soprattutto bene senza rischiare, che può anche levare di bala al settantesimo senza alcun problema, una Roma che valorizza i suoi giocatori perché la Roma deve giocare così come ha giocato oggi, perché le caratteristiche individuali della Roma si adattano perfettamente a un tipo di calcio che è quello visto oggi. Ovvio, difficilissimo replicarlo sempre ogni partita, ma questa qua deve essere la base e oggi si è visto, e occhio, non è il bel gioco da mettere contro il catenaccio, non è quel bel gioco, come per dire ecco, il bel gioco che non porta a niente e il catenaccio che ti fa vincere. Non è così, non è così, e ora ne parliamo, prima di farlo però iscrivetevi, like e commento qui sotto e seguitemi che è fondamentale anche sui altri social, link in descrizione. Detto questo, allora, bella partita, bellissima partita, nulla veramente da aggiungere, una Roma che gioca bene a uno, avete visto il secondo gol? Avete visto veramente il secondo gol? Dalla difesa all'attacco, tutti i passaggi perfetti, lanci, stop, un'azione tecnicamente impeccabile, da mostrare in tutte le squadre calcio secondo me. Perché la Roma ha per me i giocatori, e ve l'ho sempre detta sta cosa, non per fare il gioco difensivo, non per fare un gioco speculativo, ma per provare a giocare, perché comunque ha tantissimi giocatori di palleggio, di qualità, e se tu ti riduci soltanto a giocare di rimessa, puoi farlo, è legittimo, la Juventus è un altro tipo di squadra che per me ha le caratteristiche invece per giocare di rimessa, infatti lo fa con risultati diversi dai nostri, lo ha fatto meglio fino a quando comunque c'era Murigno, no? Ecco, la Roma non ce l'ha quei giocatori, la Roma ha giocatori di palleggio, poca gamba, tantissimo palleggio, tanta qualità, o comunque giocatori che sono anche abbastanza lenti, ma che hanno piedi ben educati. E si è visto oggi comunque come la Roma, in questo modo giochi bene, la Roma gioca bene, vi ripeto, non è un gioco, perché ormai la narrativa è questa, no? Catenaccio uguale risultato, bel gioco uguale sconfitta, non è un'equazione che è proprio esatta, il bel gioco sterile a me non piace, il bel gioco che è un giropalla, quello non è bel gioco, a me il bel gioco che intendo io, così a grandissime linee, è clop, così no? Per dirvene uno, ecco, ovvio, non è clop dei rossi, ci mancherebbe altro, però è un gioco, ecco, come si può dire, utile, funzionale, mirato, quel tipo di gioco, e soprattutto deve essere un gioco che calza a pennello con i giocatori che ha in rosa, e questo gioco per me è quello che valorizza complessivamente la squadra, avete visto oggi tutti quanti hanno fatto una partita per me da sopra il 6 e mezzo, tutti dal portiere a Lukaku, tutti, tutti, poi, che ve lo dico a fare? Le fasce rivitalizzate, Angelinho gioca benissimo, secondo me gioca un'ottima partita, ma anche Karstorp gioca bene, Zaleski in attacco gioca alla grande, di bala, ovviamente, Lukaku fa gol, e Sharawi messo nel suo ruolo gioca benissimo, Pellegrini, ora Pellegrini, oggi omaggiato dal pubblico, io ve l'ho sempre detto, non apprezzo gli ammutinamenti, comunque il capitano è un'autorità così come lo è l'allenatore, quindi nel caso si devono confrontare anche in maniera accesa, non accetterei proprio a livello umano un ammutinamento, perché è un gesto, diciamo, come si può dire, proprio da, un gesto da traditore, se c'è stato un confronto acceso, sono contento, perché è giusto così, ma la cosa, secondo me, più che l'ammutinamento, Pellegrini, l'avete visto, Pellegrini il primo anno con Murigno, il secondo, il terzo, ecco, l'anno scorso nessuno si era ammutinato contro Murigno, no? Però Pellegrini giocava comunque male, perché Pellegrini, più lo metti dietro, più lo metti a difendere, peggio è, Pellegrini è un giocatore offensivo, De Rossi ha ridonato questa, diciamo, posizione più offensiva, infatti Pellegrini va alla grande, è così, è così per De Rossi, ovviamente in due giorni non è che può imporre un'idea di calcio che magari neanche avrà, perché De Rossi si sta formando come allenatore, no? Però sicuramente può cercare di fare un'ottima zuppa con gli ingredienti che ha, ed è quello che sta facendo, invece Murigno ha fatto, o meglio, ha provato a fare il contrario, ha provato a, diciamo, fare un altro tipo di pasta, quando invece aveva gli ingredienti per la zuppa, questo è stato fondamentalmente, ed è stato questo che per me ha pagato Murigno. Adesso la Roma torna a meno uno dalla Champions, rappresentata dall'Atalanta, che ok, ha una partita in meno, che è con l'Inter, che quindi è tutt'altro che scontata, a San Siro, certo, partita comunque aperta, eh, l'Inter non l'ha vinta, però, diciamo che la Roma sta lì, sta graffiando la zona Champions, vedremo un po' come finirà, però ci siamo, ci siamo, e alla prossima, ok, ora De Rossi ha fatto 3 su 3, 3 partite per carità abbastanza agevoli, però 3 partite che andavano vinte, si sono vinte, quindi perfetto, perfetto, perché comunque anche a livello morale era fondamentale fare questo filotto, adesso la prossima l'Inter, poi il Feyenoord e poi comunque se ne parlerà. L'Inter è una partita che ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica, no, la Roma parte sfavorita, è in casa, e la Roma se perde, perde purtroppo, è da mettere in conto che comunque con l'Inter si può perdere, la squadra più forte del campionato per me fra le top in Europa si può anche perdere, ma se poco poco l'Inter, magari anche per demeriti dell'Inter stessa, che ne so, che già pensa un po' alla Champions, che avendo vinto con la Juve si rilassa, non credo, però putacaso, putacaso la Roma riesce a fare il risultato con l'Inter, sarebbe una botta morale, una spinta morale per l'Inter, frega poco, perché comunque l'Inter per me vince lo stesso, lo scudetto, anche se dovesse perdere a Roma, ma se poco poco la Roma fa risultato, la spinta psicologica è talmente forte che non escludo che veramente questa Roma possa fare uno sprint fino a fino campionato ad arrivare quarta, io non lo escludo, perché la Roma se fa qualcosa di importante con l'Inter, non si riduce tutto, è Emma il Cagliari, Emma è la Salernitana, Emma il Verona, boni eh, boni, però veramente molto molto bene, una Roma che ritrova la fiducia, una Roma che viene messa in campo, bene, bene, perfetta, 4-0, tondo tondo al Cagliari, mi dispiace soltanto un po' per Ranieri, però è anche giusto così comunque, bocca al lupo Claudio, ti auguro il meglio, mister, però comunque lo sai, in cuor tuo che era giusto così. E con questo passo e chiudo, iscrivetevi, like e commento qui sotto, e seguitemi anche sugli altri social, ciao ragazzi e buonanotte!